Mercoledì di allenamenti alla Cittadella del Rugby di Parma, prima della trasferta in Francia contro il Brive, nel quarto turno di Challenge Cup. A conclusione della sessione di lavoro di questa mattina si è fermato Samuele Ortis, seconda linea delle Zebre. Ciao Samu, com'è andato l'allenamento di oggi? Ciao, oggi l'allenamento per fortuna è andato molto molto bene. Sei nato a Venezia nel 1996, ci racconti quando e come hai iniziato a giocare a rugby? C'è stato qualcuno in particolare che ti ha introdotto nel mondo della pallovale? Diciamo che mio padre ha iniziato a introdurre una pallovale fin da piccolo. Io fino in quinta elementare nuotavo, quando un giorno finalmente con un mio amico ho deciso di provare a giocare a rugby, seguendo anche tutta la mia famiglia, dato che mio nonno, mio prozio e mio padre hanno giocato, ho deciso di provare anch'io. Prima di debuttare in eccellenza con i piacentini del Rugby Lions, hai svolto un'esperienza nel campionato nazionale di Serie A con l'Accademia Nazionale Ivan Francescato. Quanto è stato importante il tuo passaggio in Accademia prima di esordire nel massimo campionato italiano? Il mio anno in Accademia sicuramente ha dato molti molti frutti. Ritengo che comunque l'Accademia Nazionale sia stato un passaggio fondamentale nella mia crescita, perché è andato a colmare magari quel divario che poteva esserci tra il campionato 2018 e il rugby di eccellenza. Sei arrivato alle Zebre nel 2018 sull'onda di un ottimo campionato di eccellenza con il Rugby Rovigo, in cui ti sei distinto come una delle migliori seconde linee. Cosa ricordi degli anni trascorsi con la Maia Rosso-Blu e cosa hai portato di positivo dalla tua esperienza con i bersaglieri? Da Rovigo mi porto dietro un fantastico ricordo. Anche Rovigo è stato fondamentale nella mia crescita fino ad arrivare a questo punto. È disputato due 6 nazioni Under 20 e due mondiali di categoria nel 2015-2016 sotto la direzione tecnica di Coach Orlandi e Tronconne, allenatori che hai ritrovato qui alle Zebre. Ritrovare un allenatore che già ti conosceva ha facilitato il tuo inserimento in rosa a livello tecnico? Sono state delle esperienze assolutamente positive, sia i due 6 nazioni che i due mondiali Under 20. E riuscire a ritrovare due allenatori che mi hanno seguito per tanto tempo ha sicuramente facilitato il mio inserimento in rosa. Dopo aver svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili, sei ancora a caccia del tuo primo cap in azzurro. Che valore ha per te riuscire a debutare con la nazionale maggiore e come approcci il tuo lavoro in campo per riuscire a centrare questo importante traguardo? Come chiunque, la maglia azzurra è un sogno. Ogni giorno si lavora duro per cercare di raggiungerlo. Tutte le nazionali giovanili sono state un piccolo mattoncino che magari un giorno, spero, mi aiuterà a coronare il mio sogno. È disputato 15 gare con le Zebre la scorsa stagione, mentre quest'anno si è entrato in campo nel secondo tempo della partita con i Dragons e ancora sabato scorso a Calvisano contro il Brive. Che stimoli ricavi dal contendere la maglia con i due irlandesi Kearny e Nigol, i due azzurri Sisi e Giorgio Biagi, oltre che il giovane promettente come te Leonard Krumov? Sono tutti dei grandissimi stimoli. Riuscire a combattere per la maglia con queste persone sicuramente aiuta. È una buona competizione interna con della grande amicizia dietro sicuramente aiuta allo sviluppo di tutti. Eri in campo a Calvisano nella sfida di andata contro il Brive. Che avversario è trovato in mischia nel gioco aperto? A Calvisano è stata una partita molto dura, molto ostica. Brive è una squadra francese, di conseguenza molto ruvida, molto abrasiva. Di conseguenza così sarà la partita a Brive, a maggior ragione che andremo a giocare in casa loro. Settimana corta ed intensa prima della trasferta. Come arriviamo all'appuntamento e come avete preparato la partita con i francesi? Arriviamo alla partita con tanta voglia di riconfermarci. Abbiamo preparato la partita con lo scopo di imporre il nostro gioco alla squadra avversaria e non subirlo come è stato negli ultimi 10 minuti dell'ultima partita. Quale sarà la chiave del successo contro i transalpini? Come detto prima, come succede in ogni partita di rugby, bisognerà imporsi fisicamente e imporre il nostro gioco agli avversari, non lasciarli respirare e metterli in molta pressione. Allora in bocca al lupo a Samuele Ortis e alle Zebre in vista della gara di ritorno contro il Brive. Grazie mille. Grazie mille.